Un artista da sempre sensibile alle tematiche della disabilità, così come a quelle della dipendenza. E così, anche in occasione del Pizza Fest, Renzo Arbore, oltre a intrattenere il pubblico a Secca Grande il 13 settembre prossimo insieme alla sua orchestra italiana, parteciperà ad una tavola rotonda organizzata con la collaborazione dell'ASP di Agrigento e il CERT di Ribera. E' tutto pronto intanto per alzare il sipario sul primo step del Pizza Fest 2018, dedicato alla comicità e al cabaret. Si inizia venerdì prossimo con Secca Grande Days, Pizza Fest Young. A esibirsi il 31 agosto alle 21.30 sarà Roberto Lipari. Giovane cabarettista palermitano, nato tra le file del laboratorio comico palermitano, la carovana Stramba, vincitore della prima edizione del Talent di La Sette, eccezionale veramente, e anche artista fisso di Zelig e Colorado. L'1 settembre sarà la volta del duo I Soldi Spicci e il 2 settembre di Sicilia a cabaret, con 35 barrettisti siciliani. Poi il 13, il 14 e il 15 settembre Pizza Fest entrerà nel vivo, intrattenimenti musicali con Renzo Arbore e la sua orchestra, Biancazzei e Enricchie Poveri. Ma non solo musica, il programma è ricco di dibattiti improntati sui temi sociali. Tutto è pronto, dichiara l'assessore allo spettacolo Francesco Montalbano, per rinnovare l'impegno di un appuntamento che attira migliaia di visitatori e prolunga, di fatto, l'estate a secca grande. Complessivamente, il Pizza Fest, nei suoi due step, racchiude sei giorni tra degustazione della pizza di Ribera, dei prodotti tipici locali, intrattenimenti musicali e comicità, senza dimenticare gli appuntamenti per dibattere temi attuali che interessano il sociale e il territorio.